In arrivo i fondi relativi al bando ministeriale sulle aree degradate di Arezzo, il comune aretino era arrivato 35esimo su una gradatoria di 120 a livello nazionale. In un primo momento per Arezzo era sfumato l'arrivo dei finanziamenti tanto attesi previsti solo per i primi 24 comuni, ma la copertura finanziaria è stata allargata a tutte 120 le progettualità che hanno partecipato al bando. Questa la buona novella portata dal primo cittadino di Arezzo di ritorno dal Consiglio nazionale del Lanci. Comunque abbiamo avuto, dico più che una rassicurazione, abbiamo avuto certezza che il finanziamento da 18 milioni di euro che il comune di Arezzo ha chiesto e che è stato giudicato plausibile dal governo viene finanziato nel 2017. Quindi è una notizia importante, ora non so ancora le date, ma credo che si tratti una questione di mesi, ma avremo quei denari, quindi potremo veramente dare un volto nuovo a una parte consistente della città. Saione, Pescaiola, tutta quella parte che oggi soffre fortissimamente della mancanza di fondi, della mancanza di risorse, verrà risanata, ripulita e ci saranno anche importanti opere pubbliche che ci consentiranno di creare in quella parte della città un motivo in più per andarci e non di scapparne. Il governo ha mantenuto fede a quello che aveva promesso, dagli iniziali 500 milioni è stato rifinanziato il fondo a 1 miliardo e 400 milioni, quindi in realtà si riusciranno tutti i comuni che hanno fatto domanda, 130 comuni, riusciranno a fare quello che si era ripromessi nel 2016. Mi preme ricordare che Arezzo è arrivato 35esimo, quindi siamo nel terzo superiore e quindi un buon risultato anche per il lavoro degli uffici comunali. Grazie.